ed eccoci qua in quello che sarà un gameplay con cattone da manuale come da capitolo 7 della guida strategica fortnite del nostro eroe ciccio game ci regheremo prima in un posto meno a meno che non vediamo l'anno perché se veniamo l'anno io l'annato di solo la gioco lo dico la mano volevo via non mi armi cazzo andrà bene a volte che c'è una nuova lunga città lo che c'è un terpito è il blanco gioco Grazie. Grazie. Quanti pesci c'avrai tu, fra? E' lui! Sulla cresta del mondo! Invetta all'isola, signori! E vince anche questa sera. Con? 3 kill! Buono! Senza rischidare, eh! C'è l'amico mio qui ancora vivo? Tu sei morto, sei proprio una sega, oh! Chi è? Chi è? E' lui che è sparaggente! A chi? Non c'è nessuno! E' là! E' sopra, Andrea! L'hanno sparato pure prima! Eccoci! Ma che cazzo dici? No! Domanda di! Eccoci! E poi?